Musica Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games Io sono Valfair, il signore dei giochi e bentornati su Bomber Crave Allora ragazzi, manca poco per finire il gioco Ma prima di finirlo dovremmo fare oggi una missioncina secondaria stupidissima Che ci serve fare perché se tutto va secondo i piani ci sbarazziamo dell'ultimo pilota ricercato Kaiser Von Dusen E lo elimineremo dalla faccia della terra Così avremo un rompiciolla in meno durante le nostre missioni principali Allora, questa è una missioncina secondaria molto molto stupida Dovremmo solamente eliminare una specie di fabbrica di munizioni Per così dire Quindi vediamo I nostri soldati sono tutti riposati sull'attenti e pronti a partire Ok, spero di riuscirci ragazzi perché quest'ultimo pilota se lo incontriamo Oltre a cercare di eliminarlo, cosa che dobbiamo assolutamente riuscire E fa veramente male perché spara dei razzi in grado di annientarci Che quando ho provato io durante le missioni secondarie Mi ha dato gravi problemi perché Non, come per così dire, era riuscito ad eliminarmi completamente il pilota E quindi mi ha fatto di atterrare male Erano morti tutti Per fortuna non ho salvato la partita Così posso riprovare da capo E proverò insieme a voi Allora Sono due da eliminare Ok Una è eliminata Vado subito a fare la foto E poi distruggo l'altra Allora voi Che fate? Li avete targettati? Sì Ah no, li hanno già eliminati Ancora i nemici Arrivano in tanti Già Mannaggia Dobbiamo fare questa foto Distruggere l'altro bersaglio E tornare a casa Spero di trovarlo durante la missione secondaria Oh, sono due foto da fare Di eliminarlo durante la missione secondaria Perché durante quella primaria Sarebbe impossibile terminare il gioco Assolutamente ragazzi Ok, allora Io vi targetto tutti Così vi ammazzo Vi togliete dalla ciolla E andiamo immediatamente a fare l'ultima foto Ok, così poi possiamo andare a bombardare L'ultimo bersaglio Strano che non stia spuntando Già il pilota ricercato Che ci farebbe veramente piacere eliminarlo Ok, foto fatta Foto fatta Possiamo tornare indietro Il più rapidamente possibile Quindi tu Vammi di boost Così ci sbrighiamo Eh, nel frattempo La contraerei mi spara Ma non riesce a fare tanto danno Io ho sbloccato Su per giù L'armatura Più resistente Che c'è per l'aereo Ma ce ne sarebbe ancora da sbloccare Quindi speriamo che Con i punti intelligence Di questa missioncina stupida Magari Arriviamo in effetti A poterla sbloccare Eh no, e vabbè Io non vi posso Targettare tutti uno a uno Tu mi vai di autotag Per sicurezza tu Almeno tu ricarica Ok Allora Prepariamo le bombe Non siamo lontani Tu mi vai di munizioni incendiarie Eliminameli tutti Ok Eh I Spitfire non servono A una beata ceppa Vengono Fanno niente E se ne vanno Mamma mia Ok 3 2 1 Vai Distrutto Perfetto Possiamo tornare in base Da che parte sono questi nemici Da che parte Lì Ok Vi ho visto E vi targetto immediatamente Così vi ammazzo Ok Eh Senti Tu sei ferito però Vai a ricaricare rapido Tu pure Immediatamente Eh Tu Mi chiudi qui E ti metti qui sopra Sai come? Non si sa mai Ok Tu mi vai di focus E munizioni perforanti Tu Vanni lì Tu Per sicurezza Focus E munizioni altamente Esplosive Non mi inseguono più Ok Allora io Accelero il gioco E tiro fuori le rotelle Non dovrebbe mancare molto all'arrivo No Manca veramente Veramente poco Ok Forza che ce la possiamo fare Tu mi vai di burst Così ci Sbrighiamo un pochino E possiamo fare un'altra missione Ok E siamo arrivati La missione è andata A buon fine Strano che non sia uscito fuori Quindi mi sa che ci toccherà fare un'altra missioncina stupida Sperando che esca fuori stavolta questo pilota E così Così lo eliminiamo e lo togliamo dalle palle Allora Piano con l'atterraggio Piano perché se no ti meno la nonna Ok Ok se no gli menavo la nonna al pilota Ok ce l'abbiamo fatta Allora dimmi che siamo arrivati a un buon punto di Buon livello di punti intelligence Mi sa di no perché a 35.000 si sblocca effettivamente qualcosa Se arrivassi almeno a 32.000 abbiamo fatto due foto E però ci sono tante monetine che non ce ne facciamo assolutamente niente Ok allora qualcuno mi livelleggia Mi livelleggiate Tanto per curiosità Sì tu sì Ah e nessun altro Ok c'è due manovre evasive come piloti Ok e non abbiamo sbloccato niente Però nell'aereo io potrei teoricamente mettere Qualcosina di interessante Sistema Avevo sbloccato l'ultimo radar Che mi riduce di uno la velocità di rotazione del radar Però mi pesa 550 kg in più Per un secondo Quindi non vale assolutamente la pena E vabbè ci tocca fare un'altra missioncina secondaria Rapida rapida Questo qui Ok un'altra missione dove dobbiamo distruggere Un'altra fabbrica di munizioni nemiche Così le loro forze di terra se la vedono brutta E le nostre invece no Ok Da quella parte Ok c'è una buona probabilità di trovarlo Ma detto che è stato avvistato dalle vedette E quindi non dovrebbe mancare molto Questa volta lo devo eliminare A tutti i costi Il nostro comitato di benvenuto c'è sempre Sta sempre lì pronto Non deludono mai Ogni volta che c'è una missione C'è pure il comitato di benvenuto pronto a farci il culo E Allora Non dovrebbe neanche essere molto lontano la zona No no assolutamente no Ok Allora tu si è messo sopra momentaneamente Sì Ok allora tu No tu Mi vai di focus E munizioni incendiarie magari Tu mi vai solo di Munizioni incendiarie Cioè munizioni Perforanti Da quella parte E lì c'è l'aereo Ok Allora tu mi scendi momentaneamente sotto Mi apri e mi prendi qui Dobbiamo assolutamente trovare il modo di eliminare questo Maledetto Kaiser von Dusen Questa volta ti elimino Così mi faccio tutta la campagna con tranquillità Porca miseria Eh Sì vabbè Radio auto tag Chiama gli speed Fai tutto quello che devi fare No la fotografia non me la faccio Ma neanche per morto Neanche da morto me la vado a fare la foto Non posso rischiare con 50.000 aerei nemici Ecco Con 50.000 aerei nemici E tutto il resto Non me posso rischiare assolutamente Allora Eh Tu Chiudi E vai qui Tu vai a media altitudine Il più rapidamente possibile Andate di focus E munizioni incendiarie Eh Tu ci sei arrivato alla postazione Maledetto Oh Ok ci sei arrivato Tu vai di focus E munizioni perforanti Ok I nostri piloti Non vedono assolutamente Una ceppa al momento Nelle zone dove bisogna andare Ma ci sono troppi aerei E li devo eliminare assolutamente Gli speedfire sono arrivati Ok Vai di munizioni incendiarie Eh Tu vai di focus Tu vai di munizioni esplosive Veloci Veloci Da quella parte Ok Lo dobbiamo eliminare Ce la possiamo fare È dietro di noi Proprio dietro di noi E allora io lo sai che ti dico Che Noi andiamo Da quella parte Cambiamo un attimo Rotta Perché lo voglio annientare A tutti i costi Deve morire Si deve togliere dalla ciolla Questo pilota A ogni costo Tu Vami immediatamente Lì nella tua postazione Davanti Subito subito Eh Tu ricarica Eh Tu ricarica pure Dobbiamo assolutamente Eliminarlo Ok Eccolo Andate di autotag Tu vai di difensivo Tu mi vai di focus E munizioni perforanti Tu ancora non sei in posizione Tu mi vai solo di focus Eliminatelo Eliminatelo A ogni costo A ogni costo Deve crepare male Toglietelo di mezzo Tu mi vai di incendiarie Tu pure Trovate il modo assolutamente Di eliminarlo Ok Forza Tu mi vai di difensivo E munizioni Tu mi vai di focus E tu mi vai di difensivo pure Eliminatelo Forza Che non manca tanto Per eliminarlo No Non mi dire che sta scappando Non mi dire che stai scappando Pezzo di codardo O pezzo di codardo Mi dici che scappi Ma Che cavolo faccio Metto pure pausa Move Eh vabbè io provo a fare allora A questo punto pure la fotografia Però se scappa Che scappa Porca miseria Mi incazzo Non mi puoi scappare così Tu vai a ricaricare subito Eh Tu Eh sì Vabbè ciao Ah ok Perché mi ero allontanato io Ho capito Ho capito E allora non succede più Andate di incendiarie Tu munizioni esplosive E tu Vammi di focus E mi vai di focus Però ti metti lì Velocemente Eliminatelo Eliminatelo Vammi di focus Forza Tu vammi di difensivo E porca miseria Eh Vammi a bassa quota Momentaneamente Eh Tu mi sa che Ti conviene Prendere le munizioni E tornare lì Il più rapidamente possibile Tu mi vai di munizioni Così tu mi vai di focus Proprio rapido Rapido Me ne vado Torno Nella zona Della fotografia Eliminatelo Mannaggia Quanto è resistente Porca miseria Tu Vammi subito A riparare lì Immediatamente Tu Subito A ricaricare Tu pure Immediatamente A ricaricare Ok Eh Forza Dai che ce la possiamo fare Dai che ce la possiamo fare Ok Mentre che è così Forza Forza Porca miseria Porca miseria Cazzo Cazzo Vammi di difensivo Eh che cavolo Madonna santa Me la sta facendo Faticare Veramente Veramente male Madonna Madonna santa Ma io ti Ma io ti disinstallo A calci dal gioco A te Ti vado a trovare Il file di sistema Dove ci sei Tu e ti elimino Porca miseria Forza Ce la potemo fare Tu Vammi di focus E incendiare Se potessero Se potessero venire Gli spitfire Ancora no Mannaggia Eliminatelo Che ce la potete fare Forza Forza che ce la potete fare Non mi dire che scappa Ti prego E dai Non può scappare Porca miseria Me la stanno facendo Faticare Veramente Veramente Tanto E mannaggia Eh sì Tu Fammi subito A ricaricare E tu pure Ok allora Tu che hai ricaricato Mi vai di difensivo Tu mi vai di difensivo Oppure Tu mi vai Di radio E ritorniamo nella zona Della fotografia Stiamo facendo avanti indietro Così lui resta in zona E lo possiamo eliminare Ok tu mi vai di incendiare Forza che Alla fin fine Sembra niente Ma per quello che stiamo Riuscendo a colpire Gli stiamo effettivamente Facendo male Ok forza Andatemi di autotag Anche se non serve Assolutamente a niente Così 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 Tutta in faccia Perfetto Eh Te la stai beccando Tutta in faccia I miei colpi Eh Ok forza Tu Vami subito A ricaricare Tu pure Istantaneo Proprio Mannaggia Eliminatelo Eliminatelo Forza che ce la potete fare Eh dai Di nuovo Ritornami da questa parte Così lui non si allontana Troppo Forza che ce la potete fare Alla fine Ad eliminarlo Dai Focus e munizioni esplosive Focus e munizioni esplosive Eliminatelo Forza che sembra niente Ma gli stiamo facendo male Gli stiamo facendo veramente male Chiamo gli Spitfire subito Che finché lui è ancora vivo Ed è qui A pressa a noi Gli faranno male Della madonna Si ti metti pure in testa in giù A fare lo strafigo Però guarda un po' Ah ma guarda un po' Stai effettivamente crepando male Eh 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 A fare il figo Poi succede che ti fai male Ok Sta crepando Sperando che non riesca a scappare Sparategli Forza Spitfire Potevate anche sbrigarvi a venire Porca miseria Non mi dire che scappa Perché mi incazzo Non mi dire che scappa Perché mi incazzo Andate di munizioni perforanti Se necessario Eliminato Perfetto Ok 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 Allora tu ti metti sotto Mi fai La fotografia cortesemente E ce ne ritorniamo Assolutamente A casa Ok Così ora possiamo effettivamente Fare le missioni principali Senza troppi problemi Ok Da quella parte E mi vai pure di Burst Ok Ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti finalmente Ad eliminare Questo maledetto pilota L'ultimo Così ci dovrebbe dare Anche un piccolo bonus Aggiuntivo In punti Intelligence Spero E possiamo tornare A casa E fare poi Le missioni principali Quelle poche rimaste Senza avere Nessuno In mezzo Alla ciolla Che ci colpisce apposta Finalmente Mamma mia Che fatica Dover eliminare Questo pilota Mamma mia Degno di nota E d'altronde Era l'ultimo Quindi Doveva essere Sicuramente Quello più bravo E più potente Di tutti Anche se di bravo Non aveva niente Aveva solo un aereo Troppo buono E furbamente Se ne stava troppo Lontano Per poter Prendere la mira Anche solo Col focus Ok Allora Abbiamo benzina Per dieci minuti E io Farei dando un boost Appena possibile Tanto per accelerare Accelerare Come cavolo Si dice Mi sto impappinando Scusate ragazzi Sono presso Dalla foga Della battaglia Sì grazie Tornate in base Tanto non siete serviti A una beata ceppa Voi Speedfire Toglietevi dalla ciolla Va E che cavolo Ok Vai di boost Che manca poco Sì sì Manca veramente poco Siamo arrivati Ok Possiamo Atterrare 4 minuti di carburante Ma non ce la facciamo Appunto Sono anche aumentati Ok Dai E ce l'abbiamo fatta Non mi atterrare male Non mi atterrare storto Atterrami dritto E con calma Dritto E con calma Piano 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 Ok Perfetto Ce l'abbiamo fatta E anche oggi Abbiamo completato Uno degli obiettivi Più importanti Per andare più avanti Con piena serenità Eliminare uno di questi piloti O perlomeno L'ultimo che era rimasto Perfetto Giustamente Mi danno tante monetine Che non me ne faccio Una beata ceppa Però siamo arrivati A 32.000 punti Intelligence Chissà Magari riusciamo A sbloccare qualcosa Qui chi mi lieve Leggia Nessuno che livelleggia Proprio Nessuno Nessuno Ma nessuno 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 La Armored MK7 Sarebbe quella Che effettivamente Io vorrei E vabbè ragazzi E con questo Oggi si termina Quest'altro episodio Di Bomber Crave Spero che il mio video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un mi piace O condividete i miei video Ragazzi Per aiutare il canale A crescere E essere conosciuto Detto questo Da Walfair Games È tutto Alla prossima Per aiutare il canale Grazie a tutti.